Eccoci su Sicilia 24, ben ritrovati. Apriamo questo appuntamento con Spazio Notizia parlando dell'ennesimo terremoto nella sanità siciliana. Si parla stavolta di gare truccate per 700 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito 10 misure cautelari. I dettagli nel servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali nei confronti di 10 persone, una finita in carcere, 4 ai domiciliari e 5 destinatari di obbligo di dimora e presentazione alla Polizia Giudiziaria nell'ambito di un'indagine su un giro di tangenti per centinaia di migliaia di euro e gare truccate per 700 milioni in alcune aziende sanitarie siciliane. Per tre persone inoltre è stata disposta la misura interdittiva di un anno. Gli indagati sono accusati a vario titolo di corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, riciclaggio e emissione di fatture per operazioni inesistenti. Con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto il sequestro di oltre 700 mila euro che sarebbe il prezzo della corruzione e a carico di tre società il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per un anno. Le indagini, coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia, sono state condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Gruppo Tutela Spesa Pubblica di Palermo e sono la prosecuzione dell'inchiesta denominata Sorella Sanità che a maggio del 2020 ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di 13 persone, tra i quali i manager dell'Asp di Trapani e Palermo, Fabio Damiani e Antonio Candela, già processati e condannati in primo grado. Le indagini hanno accertato nuove ipotesi di corruzione e di turbativa relative ad altre gare pubbliche in ambito sanitario. Si è conclusa a Pozzallo l'operazione dei carabinieri denominata The Family con la cattura di due soggetti che erano irreperibili. I carabinieri della compagnia di Modica hanno rintracciato e arrestato un 38enne rosolinese e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza un 32enne pozzallese, entrambi coinvolti nelle attività criminali che la scorsa settimana nell'ambito dell'operazione The Family hanno portato all'arresto di cinque soggetti già sottoposti a misura cautelare. La coppia, rintracciata dai militari dell'arma attraverso approfondite attività di indagine, risultava abitare nei pressi di Francoforte sul Meno, nella Germania sud-occidentale. Da qui i due conviventi davano il proprio contributo, anche economico, alle attività illecite della famiglia, interfacciandosi telefonicamente in prima persona con corrieri e fornitori di droga. Il coinvolgimento nel business criminale si faceva anche più intenso nei periodi estivi, quando i due ritornavano a Pozzallo per trascorrere le vacanze anche con i propri familiari. Si conclude così l'operazione The Family, che ha permesso di disarticolare una fiorente attività criminale diretta da un nucleo familiare attivo nella compravendita e nella cessione di sostanze stupefacenti, in particolare di tipo eroina e metadone, operante esclusivamente nel territorio di Pozzallo. I sette soggetti coinvolti sono accusati a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, continuata e aggravata, poiché commessa da più persone in concorso tra loro. I destinatari dei provvedimenti restrittivi emanati dal Tribunale di Ragusa e dal Tribunale per i minorenni di Catania, su richiesta delle rispettive procure della Repubblica, sono stati condotti presso le case circondariali di Ragusa, Palermo Pagliarelli e Catania Piazza Lanza. Restiamo nel ragusano, ma virtualmente ci spostiamo a Vittoria, dove i carabinieri hanno invece arrestato tre ladri di olive. Prosegue il contrasto ai reati contro il patrimonio dei carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa nei centri urbani e nelle periferie rurali. In particolare, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vittoria sono stati allertati dal proprietario di un fondo che segnalava la presenza di sconosciuti nella sua proprietà che tagliavano i suoi ulivi secolari per raccoglierne le olive. Immediatamente i militari hanno raggiunto il fondo, sorprendendo i tre ladri all'interno della piantagione di ulivi ancora impegnati nell'illecito raccolto. I ladri si erano dotati di un furgone per il trasporto dell'ingente quantitativo di olive, erano equipaggiati con attrezzature per la raccolta e di una motosega a scoppio per recidere i rami degli olivi e raccogliere le olive dai rami caduti. I militari intervenuti sono riusciti a recuperare i 100 kg di olive già caricate sul furgone, anche se non hanno potuto evitare i danni già causati agli olivi secolari che restano irreparabili per l'impossibilità del proprietario del fondo di poterne godere dei frutti nei successivi anni. I carabinieri hanno pertanto sequestrato il furgone e l'attrezzatura e arrestato i tre ladri per tentato furto aggravato in concorso che dopo il rito direttissimo di convalida dell'arresto venivano posti in libertà in attesa di giudizio. Ci spostiamo adesso nel Catanese, parliamo dell'omicidio avvenuto a Palagonia. I carabinieri della compagnia di Palagonia hanno arrestato un 24enne del posto poiché gravemente indiziato del reato di omicidio doloso. Il fatto di sangue avvenuto all'interno di un rustico di Contrada Vanghella sarebbe stato l'epilogo di una lite i cui motivi sono ancora da chiarire tra il 24enne e suo zio paterno, un 43enne del luogo, che nella concitazione avrebbe estratto una pistola puntandola verso il nipote. Il giovane, nel tentativo di difendersi, avrebbe strappato l'arma dalle mani dello zio contro il quale avrebbe poi esploso due colpi che lo hanno attinto al petto ferendolo mortalmente. I militari dell'arma, giunti nell'immediatezza su disposizione della centrale operativa che era stata informata dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, hanno trovato il cadavere del 43enne riverso a terra con l'arma del delitto al proprio fianco, risultata poi provento di furto, e con accanto altri familiari. I carabinieri stanno procedendo a una prima ricostruzione dei fatti e all'acquisizione di elementi indiziari a carico del presunto omicida. Sono inoltre in corso indagini sui luoghi teatro dell'evento per stabilire l'esatta dinamica della vicenda ed eventuali coinvolgimenti di terze persone. Il 24enne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato associato presso la casa circondariale di Caltagirone. Restiamo nel Catanese. A Gravina di Catania sono due gli arresti effettuati dai carabinieri. Si tratta di due soggetti sorpresi a rubare all'interno di un cantiere. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato in flagranza per furto aggravato in concorso due pregiudicati catanesi di 36 e 38 anni. I militari dell'arma, allertati da una richiesta di intervento pervenuta sul 112 numero unico di emergenza, sono sopraggiunti tempestivamente in via Sgroppillo dove erano segnalati movimenti sospetti di alcuni soggetti all'interno di un'area di cantiere. Nel frangente, all'ingresso dello stabile interessato dai lavori di ristrutturazione, i carabinieri hanno immediatamente sorpreso due uomini intenti a riporre del materiale all'interno del bagagliaio di un'auto. Alla vista degli operanti, la coppia ha quindi tentato la fuga non riuscendo tuttavia a sottrarsi alla cattura. Difatti il 38enne ha provato a nascondersi tra le strutture da lavoro allestite nel cantiere venendo comunque subito individuato e bloccato mentre l'altro, il 36enne, ha cercato di scappare ponendosi alla guida dell'autovettura ma anche egli è stato prontamente fermato. A seguito dell'ispezione del bagagliaio dell'auto i militari hanno trovato 12 pedane in metallo per ponteggio identiche a quelle montate nel cantiere peraltro riconosciute quali pertinenze del ponteggio dal titolare della ditta incaricata a eseguire i lavori che nel frattempo aveva raggiunto l'area del cantiere. È stato inoltre accertato che i due uomini per accedere all'interno del deposito delle pedane avevano forzato una recinzione perimetrale. L'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto di entrambi, per il 36enne ha ordinato la sottoposizione agli arresti domiciliari mentre per il 38enne ha disposto la sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e alla permanenza in casa nelle ore serali. Maltratta e fa prostituire la compagna per ottenere il denaro da spendere poi nell'acquisto di droga. Il fatto è avvenuto a Catania e un uomo è stato arrestato. Su delega della procura distrettuale della Repubblica di Catania personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Catania sulla base della richiesta di aggravamento presentata dal Pubblico Ministero ha sostituito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima con applicazione del braccialetto elettronico con la più grave misura della custodia cautelare in carcere a carico di un uomo senza fissa dimora indagato per aver continuato a maltrattare la compagna violando così le disposizioni dell'autorità giudiziaria. Il provvedimento è scaturito da un intervento effettuato alcuni giorni prima dai poliziotti del commissariato centrale i quali, mentre erano in transito in via Etnea, avevano soccorso in strada la donna a loro già nota per la pregressa attivazione a sua tutela del protocollo del cosiddetto Codice Rosso. È stato pertanto appurato in quella circostanza che per un forte senso di colpa nutrito nei confronti del compagno e padre dei suoi figli che aveva in passato denunciato la vittima si era riavvicinata a lui dopo la scarcerazione. Da quel momento l'indagato, tagliato il braccialetto elettronico applicatogli al momento dell'uscita dal carcere, avrebbe ripreso a maltrattarla costringendola peraltro a prostituirsi per procurarsi le somme necessarie all'acquisto di droga e l'avrebbe anche aggredita fisicamente in più occasioni utilizzando pure un coltello con cui l'avrebbe colpita alla pancia in un impeto di folle gelosia. L'uomo, soggetto conosciuto dai poliziotti del commissariato centrale, è stato rintracciato nella zona di Corso Sicilia e dopo le formalità di rito associato presso il carcere Piazza Lanza di Catania. Sempre a Catania è stato tratto in arresto uno stalker di 33 anni che a bordo di un'auto rubata pedinava l'ex nelle strade della città. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne catanese già noto alle forze dell'ordine per atti persecutori, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Al riguardo gli operanti sono stati allertati da una chiamata pervenuta sul 112 in cui una giovane donna, molto agitata, ha segnalato di trovarsi alla guida della propria autovettura e di essere in quel momento pedinata dall'ex marito. I militari si sono subito attivati individuando l'uomo il quale, alla loro vista, ha immediatamente cambiato strada provando a fuggire ma l'inseguimento dei carabinieri non gli ha lasciato scampo. Dopo aver compiuto, infatti, una serie di manovre potenzialmente molto pericolose ha perso il controllo dell'automobile scontrandosi contro uno spartitraffico in via Medaglie d'Oro dove è stato, infine, bloccato. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo utilizzato dal soggetto per seguire e spiare l'ex moglie era stato rubato il giorno precedente in via Rapisardi si è quindi provveduto a restituire il mezzo al proprietario. Messo in sicurezza lo stalker i carabinieri hanno quindi raggiunto e tranquillizzato la vittima ancora in preda al panico la quale ha contribuito alla ricostruzione dell'intera vicenda. La donna ha riferito di aver interrotto la relazione con il 33enne da diverso tempo a causa della sua dipendenza dalle droghe e di averlo denunciato per maltrattamenti in famiglia. Tuttavia lo stalker non avrebbe desistito dalle sue condotte vessatorie decidendo quella mattina di seguire l'ex moglie in ogni suo spostamento dopo che la stessa aveva accompagnato la figlioletta a scuola. Il 33enne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza dove tuttora permane all'esito dell'udienza di convalida. A Siracusa invece un cittadino extracomunitario è stato arrestato per diversi reati. Vediamo quali. I carabinieri della stazione di Ortigia hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere un pregiudicato ivoriano di 23 anni responsabile di estorsione, furto, danneggiamento e abbandono di rifiuti. I militari hanno raccolto la denuncia del titolare di un noto ristorante dell'isola di Ortigia e attraverso l'analisi delle telecamere e le testimonianze di alcuni clienti hanno accertato che l'arrestato per un periodo dipendente dell'attività oltre a pretendere il pagamento di somme di denaro a titolo di liquidazione aveva anche danneggiato nottetempo tavoli e arredi del ristorante. Ulteriori attività di indagine hanno consentito di verificare che anche dopo il pagamento della liquidazione l'ex dipendente aveva più volte preteso cifre di denaro che andavano dai 50 ai 200 euro minacciando il titolare con il lancio di pietre. Al culmine delle minacce durante la notte l'uomo aveva anche rubato un frigorifero dal ristorante e dopo averlo trasportato sulla scogliera adiacente al parcheggio Talete lo aveva gettato in mare. I carabinieri sono riusciti a ricostruire gli spostamenti e a denunciarlo anche per il furto e il successivo abbandono di rifiuti speciali in mare. A distanza di qualche mese la Procura della Repubblica ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere cui i militari hanno dato esecuzione associando l'arrestato alla casa circondariale Cavadonna. Ci fermiamo qui chiudiamo questo appuntamento con Spazio Notizia ma l'informazione prosegue su Sicilia 24 Grazie a tutti i nostri spostamenti